allora mentre se volete continuate a pensare al punto 2 inizio solo a sistemare il punto 1 c'è innanzitutto un errore che ho fatto grazie a chi me l'ha fatto notare ho inserito il codice della creazione del grafo nel bottone sbagliato questo codice qui andava nell'handler del bottone avvistamenti perché ora lo lancio eccolo qua avevo messo la creazione del grafo sul bottone analizza in realtà il bottone analizza mi deve stampare i risultati dell'ultimo punto del punto 1 mentre il bottone per la creazione del grafo è questo qui prima errore dopodiché avevamo lasciato in sospeso la visita non mi ricordavo la sintassi non che me la ricordi tuttora ma me la sono stampata quindi per ottenere tutti gli stati raggiungibili da un determinato nodo abbiamo diverse alternative tra cui una visita in profondità o in ampiezza quindi dobbiamo definirci l'iteratore che itererà su delle stringhe perché i nodi sono delle stringhe e gli archi sono dei default edge l'iteratore sarà ovviamente sul grafo a partire dallo stato selezionato ecco qui dove si metteva la sorgente possiamo anche tipizzare qui così non ci dà il warning eccolo qua creiamo l'iteratore abbiamo una lista di raggiungibili e ora semplicemente andiamo a scorrere l'iteratore while dp.asnext se entriamo nel while vuol dire che possiamo raggiungere un determinato nodo add string dp.next visto che voglio la lista dei raggiungibili potrei non volere il nodo stesso cioè io voglio sapere tutti quelli che posso raggiungere non voglio che nella lista ci sia il mio riferimento quindi posso fare prima di tutto un next a vuoto che scarti il primo elemento primo elemento che tanto ci sarà sempre perché abbiamo definito la sorgente e questa dp.next fa avanzare il cursore e scarta semplicemente me stesso diciamo adesso abbiamo tutti e tre i metodi per il punto c nel punto 1 e possiamo andare a inserirli nel metodo a questo punto si nel bottone analizza quindi innanzitutto dobbiamo andarci a recuperare lo stato dal box punto get value se lo stato è null ovviamente restituiamo un errore txt txt result punto append text devi selezionare un uno stato e ritorniamo altrimenti chiediamo al model di dirci tutte le cose in particolare string i predecessori this punto model avevamo definito un metodo get predecessori dello stato dobbiamo importare list facciamo lo stesso per i successori e ovviamente qui sarà get successori e facciamo lo stesso per i raggiungibili e dopo di che andiamo a stamparli quindi for string s in predecessori txt result punto append text s più slash n magari prima scriviamo anche di cosa stiamo parlando quindi txt result punto append text predecessori e facciamo lo stesso per le altre due liste incollo e cambio le stampe successori successori e raggiungibili raggiungibili prima di stampare magari facciamo anche un clear dell'area di testo ecco qua questo conclude il punto 1 possiamo provarci se non ci metto un quarto d'ora prendiamo magari un anno con pochi avvistamenti questo qua con tredici avvistamenti grafo creato undici vertici cinquantanove archi selezioniamo uno stato clicchiamo su analizza vabbè al di là di un slash n mancante sembra sembra funzionare quindi abbiamo tre predecessori cinque o sei successori e cinque o sei raggiungibili questo era il punto 1 chiudo vado magari a inserire gli slash n slash n slash n slash n perfetto passiamo al punto 2 la ricorsione come al solito la ricorsione è più veloce da scrivere perché ci sono poche righe di codice rispetto alla simulazione che prende proprio più tempo perché ci sono vagonate di istruzioni da scrivere ma è più difficile da impostare da capire quindi iniziamo a ragionare su che cosa ci serve innanzitutto che cos'è una soluzione completa quello che poi vorremmo ottenere una lista sì di stati quindi di stringhe questo bisogna sempre definire quale sarà la nostra struttura dati che ospiterà il risultato finale e quindi ci definiamo subito una lista di stringhe chiamiamola ottima soluzione ottima per dire lì sarà contenuto il percorso massimo quindi ragioniamo meglio su questa lista sarà una lista che conterrà che cosa sicuramente lo stato iniziale quello che scegliamo e poi una lista di altri stati ma c'è un vincolo importante che dobbiamo considerare visto che andremo ad esplorare tutto il grafo degli altri stati purché non siano ripetuti ok se ho già considerato s2 non lo considero più se ho già considerato s3 non lo considero più quindi direi che questa è una lista di stati string in cui c'è lo stato di partenza e un insieme di altri stati non ripetuti va bene quindi da qualche parte qui nel model facciamolo al fondo ci sarà un metodo public list string get percorso massimo ovviamente anche qui dobbiamo specificare il controller specificherà lo stato di partenza e alla fine di tutte le elaborazioni questo metodo ritornerà il dis punto ottima che verrà riempito a seconda della procedura ricorsiva giusto dis punto ottima non l'abbiamo ancora creata creiamola qua dentro cioè tutte le volte che io vado a richiamare dall'esterno questo metodo per calcolare il percorso massimo giustamente vado a ricreare da zero la mia ottima perché se ho cliccato lì voglio ricalcolarla quindi dis punto ottima uguale new linked list ad esempio di string ottimo poi dobbiamo ragionare che cos'è una soluzione invece parziale sarà sempre una lista di string giusto questa qui non la vado a definire globalmente ma la vado a definire qui dentro e poi la passerò alla procedura ricorsiva che la utilizzerà per costruire man mano i vari percorsi quindi list di string parziale uguale new linked list di string ok e qual è scriviamolo sopra perché non c'entra niente con questo metodo qual è la condizione di terminazione allora abbiamo visto che abbiamo struttura dati finale poi abbiamo la questo è l'uno due la struttura dati parziale che sarà una lista definita nel metodo ricorsivo poi quale sarà la condizione di terminazione ci va sempre la condizione di terminazione altrimenti continuiamo all'infinito quindi in questo caso qualcuno ok quando sono arrivato a un determinato nodo e non ci sono più successori che io non abbia già considerato giusto dopo un determinato nodo non ci sono più successori che non ho considerato magari un successore c'è però l'ho già inserito nella lista e allora non lo considero più e come faccio a generare una nuova soluzione a partire da una soluzione parziale ok trovo tutti stavi dicendo sì quindi dato l'ultimo nodo che avevo inserito nella soluzione parziale costruisco una nuova soluzione considerando considero tutti i successori di quel nodo che non ho ancora considerato giusto è molto utile rispondere a queste domande perché poi vedrete che viene più facile impostare la ricorsione dopodiché c'è ancora una sorta di filtro nel senso che quante soluzioni alla fine ritornerò una quindi alla fine ritornerò una sola soluzione quale la migliore che in questo caso è la più lunga quindi traduciamolo in istruzioni di codice quella per cui la size è massima poi possiamo ancora rispondere a altre due domande un po' più banali qual è il livello di ricorsione in questo caso è semplicemente la lunghezza del percorso parziale e invece il caso iniziale qual è quello per cui parziale contiene il mio stato di partenza dovremo aver risposto più o meno tutto quindi se vado nel mio metodo qui quello esterno che richiamerà la procedura ricorsiva ho creato la mia parziale alla parziale dovrò sicuramente aggiungere lo stato di partenza quindi in sostanza vado a impostare diamo dei numeri 3 4 5 6 7 vado a impostare il caso 7 il caso iniziale e poi l'idea della ricorsione è quella di avere una funzione percorso a cui passo parziale e lei faccia tutto in modo ricorsivo quando tutto ritorna qui dire che la ricorsione è esplorato tutti i casi desiderati e noi ritorniamo il dis punto ottima quindi passiamo solo parziale perché il grafo ce l'abbiamo come attributo ottima ce l'abbiamo come attributo e quindi possiamo facilmente accederci senza dover passare queste variabili come parametri quindi mi creo questa funzione e qui sta il bello cioè la ricorsione vera e propria sicuramente la prima cosa da controllare è sempre direi la condizione di terminazione cioè se sono arrivato alla fine non faccio più niente e ritorno altrimenti andiamo in loop infinito quindi testo la condizione di terminazione quindi qui ci chiediamo in realtà dobbiamo fare un merge diciamo tra questa e questa cioè quando è che sono in un caso in cui posso considerare la mia parziale quando la sua lunghezza è maggiore di quella che avevo salvato precedentemente in ottima cioè se parziale punto size è maggiore di ottima punto size posso dire che dis punto ottima è uguale a parziale occhio qui linked list non faccio un uguale semplice ma vado a clonare la lista in realtà questa non è proprio la condizione di terminazione è più il vedere se la soluzione corrente è quella ottima e migliore della ottima corrente dopodiché cosa devo fare abbiamo detto per costruire la soluzione del passo n più 1 occorre prendere tutti i successori dell'ultimo nodo inserito nella mia parziale quindi vado a prendermi list string diciamo i candidati da considerarsi e qui potrei usare il grafo ma visto che abbiamo già definito effettivamente un metodo get successori per il punto 1 posso utilizzare questo metodo get successori dato uno stato mi da tutti i nodi collegati con un arco che sono successori ed è proprio quello che voglio quindi dis punto get successori qual è lo stato? lo stato sarà parziale punto get di parziale punto size meno 1 prendo l'ultimo elemento ci va almeno 1 perché ovviamente gli indici partono da 0 e quindi si non ho capito portarsi il livello probabilmente no in questo caso non è utile direi di no esatto il livello è sempre parziale punto size meno 1 dopodiché se avete una variabile che ne tiene traccia va bene lo stesso non è che ok date i candidati l'idea è se è un candidato valido ovvero non l'ho ancora provato lo aggiungo alla mia parziale lancio tutta la ricorsione e poi lo tolgo per provare gli altri candidati che ci sono dopo quindi per ogni candidato se parziale non lo contiene e diciamo che il for unito a quella if è come se modellasse la condizione di terminazione perché se non ci sono più candidati lui non entra in quel for lì e non continua la ricorsione ritorna su ok quindi questo è un caso in cui la condizione di terminazione non è esplicita ma è data da quel for in unione con quella if quindi se è un candidato diciamo vero che non ho ancora considerato lo aggiungo eh che prova candidato provo ad aggiungerlo lancio la ricorsività con la nuova soluzione parziale quindi dis.cerca percorso parziale ma devo ricordarmi visto che voglio provarli tutti i candidati di levarlo quindi parziale punto remove essendo una lista non posso dirgli rimuovimi parziale ma devo dargli l'indice ma l'indice è facile da sapere qual è perché è sempre l'ultimo che ho inserito giusto? e quindi rimuovo di nuovo l'ultimo elemento inserito nella lista e basta rimuovere fare così no in effetti dovrebbe anche funzionare l'unica cosa è che essendo una lista questa remove sarà più lenta rispetto a farlo con l'indice però sì dovrebbe funzionare lo stesso domande? vedete che sono pochissime righe di codice sono due metodi abbastanza corti però bisogna arrivarci dimmi fare questo controllo qua dici farlo lì vediamo se però se lo fai così forse c'è il caso perché tu se lo fai così da parziale rimuovi sempre l'oggetto che hai appena inserito quindi a un certo livello tu supponiamo hai una parziale formata da S1 ci aggiungi S2 giusto? calcoli fai andare la ricorsione poi quando ritornerai a questo livello qui ritogli S2 e lui va avanti e prova e quindi non controlli mai questo cioè tu controllo S3 S3 è vero sì dovrebbe funzionare sì quindi non entra più nel for e controlla la sua sì sì forse ha addirittura più senso lo possiamo provare con tutte e due le versioni dovrebbero dare lo stesso risultato ah così da qualche problema ok allora forse vediamo allora proviamo con la prima soluzione e poi proviamo a modificarlo innanzitutto dobbiamo collegarlo al controller ma è già abbastanza facile perché qui handle sequenza andiamo a recuperarci lo stato e copio dal codice di prima il controllo eccoci qua poi dal model ci facciamo dare il percorso massimo corso uguale dis.model punto get percorso massimo a partire dallo stato selezionato e poi stampiamo txtresult.clear txtresult.appentext percorso massimo slash n diamo le due e poi for string s in percorso txtresult.appentext appunto append text s più magari un trattino proviamo allora facciamo un po' di zoom se riusciamo ok prendiamo un anno per cui non ci siano un numero di avvistamenti eccessivi 26 via eccolo qua 19 vertici e 199 archi selezioniamo uno stato la sequenza avvistamenti e questo dovrebbe essere il percorso massimo giusto? cioè giusto non lo sappiamo ma sembra ragionevole cerchiamo di ricordarci più o meno a span come veniva questo percorso ah beh ma questo questo è un altro problema aspetta proviamo a modificare il model mettendo questo filtro cioè questo controllo della soluzione migliore dopo allora prima vista dovrebbe funzionare lo stesso ma come sempre la prima vista può ingannare lanciamo eccolo qua avevamo selezionato il 53 1900 53 avvistamenti eccoci qua stessi risultati di prima LA io direi che sembra lo stesso giusto? quindi sì entrambe le soluzioni sono valide anzi forse ha più senso quest'ultima lui diceva che probabilmente con ovviamente se ci sono tanti archi in più la ricorsione può anche metterci dei giorni non è che se ha tanti archi da esplorare li esplora tutti ovviamente può essere dispendioso ah ok magari c'è un altro errorino però l'idea era giusta e come sempre per il punto 2 ripeto l'idea è quella che conta questa è una bella domanda io direi che in questi casi è indifferente se è prima o se è dopo dopodiché non sempre c'è questo controllo quindi dipende un po' dall'esercizio dalla richiesta della ricorsività però sì direi che non ci sono differenze quando ha finito i successori semplicemente non entra nel for e quindi termina questa funzione che però è void e quindi ritorna naturalmente a quella chiamante no non può ritorna non ritorna mai niente perché non può essere zero perché noi inseriamo sempre all'inizio il nodo di partenza quando arriva all'ultimo però è in non capisco ah ok scusami sì torno alla lista vuota sì 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 altrimenti ci sarebbe un'eccezione ma direi che questo metodo non ci abbiamo mai fatto caso ma sicuramente visto che non abbiamo ricevuto eccezioni se non ci sono successori non ritorna null ma ritorna comunque una lista vuota altre domande altre domande ok io direi che per oggi non ha senso iniziare altri esercizi quindi direi che possiamo concludere qui e ci vediamo domani in laboratorio grazie 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 Grazie.